Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad, sparo e so cose. Mi succede che quando vi parlo di armi storiche, spesso avendo un modello specifico in mano, giro intorno ad altri modelli che lo hanno proceduto. E questa, per quest'arma che ho qui, ovvero la carabina Carl Gustav M94, è successo per ben due volte. La prima volta quando vi ho parlato del Carl Gustav M38, la seconda volta quando vi ho parlato del Carl Gustav M96, ho dovuto sempre citare quest'arma perché questa carabina è stata la prima di questa famosissima dinastia di Mauser svedesi. Non mi delungherò eccessivamente sulla storia per questa ragione, se la volete recuperare, vi consiglio di andare a rivedere nell'angolo in alto a destra cliccando il mio video sull'M96 o sull'M38. Per chi invece non ha tempo o non vuole andare a vedere quel video, riassumiamo in un paio di minuti che cosa abbiamo qua in questo momento. Ovviamente dopo l'introduzione delle Bell nel 1886, ovvero il primo fucile a polvere in fume ad essere introdotto nel mondo, tutte le nazioni d'Europa e del resto del mondo andarono nel panico. Fu il più grande panico delle armi leggere forse nella storia dell'umanità, perché tutti si resero conto da un momento all'altro che le loro armi a polvere nera erano obsolete. Ed erano obsolete soprattutto per quanto riguarda la gittata. Le nazioni scandinave ovviamente non erano immune da questo panico. La Svezia, allora in unione con la Norvegia, rispose in una maniera molto rapida. Semplicemente comprò i diritti, la licenza di una munizione a polvere in fume danese, che i danesi avevano recentemente adottato, e convertì tantissimi dei propri Remington Rolling Block dalla polvere nera alla polvere in fume. E iniziò in quel momento la ricerca della Svezia, diciamo tamponato il problema, di una nuova arma, di una nuova munizione a polvere in fume. In tutto questo avevano una serie di contrasti con la Norvegia, in unione personale con loro, ma la storia in breve va a finire con l'adozione del Mauser 93, che hanno visto, al quale hanno assistito nei test in Spagna, con un paio di modifiche, in particolare al sistema della sicura. Qual era il problema? Il problema della polvere in fume, abbiamo detto, è la gittata. Avevano i Remington Rolling Block a polvere in fume, quindi con la gittata corretta, ma la cavalleria aveva ancora armi a polvere nera. Si decise quindi che il primo Mauser che avrebbero prodotto, da nuovo calibro in fume, sarebbe stata proprio la carabina da cavalleria, e poi soltanto la versione lunga. Infatti questa carabina viene introdotta nel 94, mentre il fucile lungo nel 96, ovviamente parliamo dell'800. È uno dei rarissimi casi, in realtà, nella storia armiera, in cui la carabina, la versione corta dell'arma, precede quella lunga. Spostiamo solo un attimino la telecamera per farvi vedere da vicino i dettagli, e poi sono curioso di provarla, perché ultimamente sto adorando le carabine e le armi corte. È vero che hanno una concussione terribile, una fiammata terribile, ma cavolo se sono leggere e maneggevoli. Andiamo. Mi piace quando le armi che riprendo entrano più o meno nel frame della videocamera. Come vedete, questa carabinetta è assolutamente compatta e leggera. Per quanto riguarda l'azione, non ci sono affatto problemi. Alla fine è un'azione 93, o meglio, un'azione 93 svedese. La più grande differenza tra quegli svedesi, l'azione 93, continuo a dire azione 93 anche se sono gli M94 e gli M96, perché vennero introdotti in quegli anni, ma l'azione di base è quella del 93 spagnolo. Dico, questi sono diversi, per una sostanziale ragione. La sicura. La sicura, infatti, può essere messa non solo quando l'otturatore è armato, come in tutti i mouser, ma anche, se faccio fuoco, posso comunque volendo azionare la sicura, il che comunque mi bloccherà l'otturatore in posizione di chiusura. Non so quanto sia utile personalmente questa cosa, ma è una cosa che gli svedesi volevano assolutamente avere sul loro mouser. Sul calcio in realtà abbiamo questo padding, chiamiamolo in termini inglesi, aggiunto dal proprietario dell'arma. Abbiamo poi questa rondella di ottone con delle informazioni. In molte armi questo indica il reparto dell'arma. Questo in realtà è un marchio di ispezione che indica una serie di caratteristiche tecniche dell'ispezione dell'arma, così che si sa che lavori bisogna fare o in che stato tecnico è. Abbiamo ovviamente un punto d'attacco per il cinturone, che continua avanti. Come vedete il cinturone è laterale, perché in tal maniera da questo lato si può mettere la schiena con l'arma dietro la schiena ed è molto comodo da cavallo, non va a sbattere a destra e a sinistra. Ovviamente abbiamo la classica azione mouser, quindi abbiamo un otturatore girevole e scorrevole, che arma ovviamente come l'azione 93 in chiusura, quindi possiamo aprire l'otturatore. Abbiamo due grossi tenoni di chiusura davanti con un grosso strattore esterno. Quando vanno in chiusura si armerà il percussore. Ora, ovviamente abbiamo un caricatore mouser a doppia colonna, a bifilare, a presentazione alternata, che blocca l'otturatore quando non ci sono munizioni. Osserviamo in questo momento il percussore come viene armato nel momento in cui vado a completare l'azione di chiusura. In tal maniera l'arma è pronta a fare fuoco. Le maggiori differenze forse rispetto agli altri Carl Gustav ovviamente sono davanti. Innanzitutto abbiamo degli organi di mira, come vedete, abbastanza semplici. Ah, c'è da dire una cosa. Questa è una carabina nel 94, ma queste carabine nella conformazione originale sono assolutamente introvabili. La stragrande maggioranza è stata convertita nel 1914 a un modello successivo. A questi organi di mira, come vedete, sono abbastanza piccoli, ma comunque tarati fino a 1600 metri. Il che è estremamente ambizioso con un'arma del genere, ma quelli erano i tempi. La maggiore differenza la troviamo davanti. Notiamo questo elemento, questo non-scap, per usare un termine inglese, molto simile a quelli degli short magazine Lampit. Questa è la caratteristica esterna più distintiva della modifica del 1914. Quasi tutte queste carabine, nota bene, hanno questa cosa qua, perché vennero tutte in arsenale modificate in questa maniera. Abbiamo quindi una canna che sporge appena, ma con questo grosso innesto per la baionetta. Il mirino è protetto da due grosse ali protettive, veramente massicce spesse. Contate che quest'arma a cavallo aveva la possibilità di essere sbattuta a cascare e tante altre cose, quindi tutte queste parti un po' più delicati devono essere protette. Questo attacco particolare per la baionetta era per rinforzare l'arma per l'uso appunto con la baionetta, anche perché c'era una serie di reparti, cavalleria, che non avevano banalmente la sciabola. Serviva un attacco migliore per prendere una baionetta abbastanza lunga. Essendo l'arma corta, ci troveremo allo svantaggio a combattere con la baionetta contro chi ha un fucile più lungo, quindi la lunghissima baionetta, che può ovviamente semplicemente essere messa qui sull'arma, lo vedremo anche durante la prova a fuoco. Per rimuovere la baionetta basta premere questo pulsante, premendo in dentro, l'andiamo a rimuovere. Per il resto ovviamente non ci sono sorprese, se vogliamo fare una manutenzione ordinaria all'arma possiamo semplicemente levare l'otturatore tirando all'infuori questa leva che in realtà doppia internamente come espulsore dell'arma. E possiamo procedere alla pulizia delle nostre componenti. Su di questo non ci sono sorprese, vi consiglio di rivedere i miei video in precedenza, in particolare quello sull'M38 dove smontiamo un po' qui nel dettaglio l'otturatore. Ma adesso andiamo a provarla perché sono davvero curioso di vedere come si comporta. Ok, eccoci qua al 414 di Broni dove finalmente proviamo questa stupenda carabinetta, ovviamente 6.5 svedese. Apriamo l'otturatore. Non abbiamo purtroppo stavolta le clip, ma sopravviveremo a questa cosa. Carichiamo con 5 colpi il caricatore Mauser interno. Uno, due... Oggi è pieno di mosche che mi stanno divorando, si stanno facendo una scorpacciata di polacco. Oggi si mangia etnico qui a Broni, ovvero io, io sono il cibo. Ok, l'abbiamo caricata. Procediamo a fare fuoco. Io sono innamoratissimo. Sono innamoratissimo. Sono innamoratissimo. Cambiamo angolo della telecamera, vi spiego esattamente cos'è che mi ha fatto innamorare. È adorabile. Non posso regalartela. Perché non ne troverei più. No, infatti queste sono rare. È saltata fuori una munizione dal caricatore. Aspetta, la mettiamo e spariamo anche questa. Ok, osservazioni. È leggera, è ben bilanciata. Ha un po' di concussione perché c'è ancora un pochino di polvere che brucia. Ma cavolo se è leggera. Madonna quanto è bello. È leggera. È leggera. Ho già detto forse che è leggera, che è comoda, che è maneggevole. Vabbè, l'otturatore è quello del Mauser 93 che è un otturatore fantastico di una fluidità davvero unica. Veramente stupendo come fluidità. Il grilletto. Il grilletto con quella precorsa della Mauser. Chi di voi ha sparato con un Mauser sa cosa intendo. Sapete cosa? Probabilmente è uno dei miei bolt action preferiti in questo momento e non sto esagerando. Non sto esagerando. Gli organi di mira sono ben visibili, tranne per il piccolo fatto, forse un difetto, che ha queste grosse ali protettive, che quando si va ad acquisire rapidamente il bersaglio, lo vado ad acquisire. Adesso c'è la maniera dell'otturatore e non lo vedo così. Quando vado ad acquisire il bersaglio, non dico che si confondono, ma danno un po' fastidio nel cercare l'attacca di mira. Ma per il resto è fantastica. Che succede se bisogna andare all'attacco o alla difesa di qualche trincea che minaccia la neutralità svedese? Innastiamo la baionetta. Proviamolo così. Carichiamo. Ovviamente la baionetta aumenta drasticamente il peso in avanti. Si sente la differenza, vi dirò. Ma comunque ci sta molto di peggio, perché potrebbe essere ancora più lunga, ma non lo è. La baionetta comunque, come vedete, è bella, 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 lunga. Vai. Vai. Proviamola ancora. Ma ma chiama. Vieni. 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 Sì, sì, sì. eccola qua mi sono innamorato mi sono innamorato di uno svedese il che pare molto strano se detto ad alta voce nella mia testa questa battuta funzionava che dire sto ultimamente davvero adorando le carabine perché sono leggere, maneggevoli belle 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 grazie a tutti per aver visto questo video come sempre ricordatevi che questi video letteralmente li createi voi se non fosse oggi per un collezionista proprietario di quest'arma oggi non sarei qui a provarla e farvela vedere a voi grazie tantissimo a chi mi sopporta su piattaforme come TP, Patreon o con gli abbonamenti o con le donazioni al canale fare queste cose non è affatto gratuito pubblicare tre video a settimana per me è un costo e così mi ha aiutato a coprire questi costi altrimenti non potrei fare quello che faccio se non volete o non potete contribuire considerate almeno lasciare un like o un commento aiuta immensamente l'algoritmo YouTube che non ama queste bellezze svedesi noi come sempre ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti